Riccardo Melgrati è nato a Monza il 17 giugno 1994. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili nell'Inter, sino a militare nelle formazioni Berretti e Primavera. Nell'agosto del 2012 si è trasferito in comproprietà al Cesena, dove è stato il portiere titolare della formazione Primavera, nonché il terzo portiere della prima squadra in Serie B. Il Cesena lo ha poi riscattato a titolo definitivo, girandolo in prestito nella scorsa stagione al Como, in Prima Divisione Lega Pro. Ha difeso la porta all'Ariana per 28 partite di campionato, alle quali va aggiunto il match dei quarti di finale dei play-off proprio contro il Südtirol, match andato in scena al Druso dove Melgrati è stato grande protagonista con parate decisive che hanno costretto Capitan Chiem e compagni a ricorrere ai calci di rigore per conquistare il passaggio del turno. Riccardo Melgrati è arrivato in prestito dal Cesena.